Saranno campionati strani, anomali, quelli di Lega Pro della prossima stagione agonistica. Play-off allargati in prima divisione, nessuna retrocessione, mentre la metà o quasi delle squadre di seconda divisione saranno integrate nella nuova e unica Serie C a tre gironi, da 20 formazioni ciascuno, che nascerà dal 2014-2015. L'ufficialità è arrivata ieri sera, ma già se ne era a conoscenza da tempo. Il direttore generale della Lega Pro, Ghirelli, ce l'aveva anticipato a Salerno in occasione di un incontro sulla sicurezza negli stadi, prima di uno dei derby tra Nocerina Paganese di quest'anno. Un campionato particolare, dunque quello di prima dell'anno prossimo, che invoglia le società a spendere di meno, tanto, mal che vada, si resterà nella stessa categoria. Ma non è da sottovalutare un dato oggettivamente importante. Con i play-off portati fino alla nona posizione, tutti cercheranno di agguantare un posto utile nella griglia e pochi, probabilmente, saranno i classici match di fine stagione senza motivazioni. Quali potrebbero essere gli obiettivi delle nostre tre squadre ai nastri di partenza? La Nocerina sembra voler diminuire sensibilmente l'esposizione economica per l'anno prossimo, con un investimento nettamente inferiore e dando spazio soprattutto ai giovani. Ciò non significa che la famiglia Citarella non sia ambiziosa, ma dopo due anni fatte di delusioni, appare anche logico un cambio di rotta, che non significa, per forza di cose, non tentare di vincere. L'equazione soldi uguale successo sicuro nel calcio non è affatto scontata come si può pensare. Nei prossimi giorni, dopo una settimana di riflessione post sconfitta di Latina, i proprietari del club, i rappresentanti della famiglia Citarella, terranno una conferenza stampa dove diranno la loro sul progetto futuro. Stesso discorso per certi versi viene fatto anche in casa paganese. Il presidente Raffaele Trapani, dopo l'investimento cospicuo dell'estate scorsa e la costruzione di una squadra con molti elementi di categoria, con qualche giocatore proveniente anche dalla B, sembra intenzionato a puntare sui giovani. L'idea è quella di costruire una formazione dalla linea verde, ma che possa ben figurare senza troppi assili di classifica. Progettare qualcosa per il futuro sarebbe l'ideale, ma tutto dipende dal budget a disposizione, dall'intervento di tutti i soci. Questione allenatore, Maurizzi in pole position, cari e cuoghi in seconda fila, entro fine settimana ne sapremo di più. Infine, la salernitana di Lotito. Qui il discorso è diverso. Sulle ali dell'entusiasmo di due campionati vinti consecutivamente, la piazza Granata preme per un nuovo salto e per il ritorno in Serie B. Non sarà semplice perché la concorrenza sarà ampia e nutrita. Molto dipenderà anche da come saranno composti i due gironi di prima divisione. Lotito comunque riparte dalla continuità. Perrone in panchina, qualche giovanotto dalla primavera della Lazio a rinforzare una squadra già forte e qualche ciliegina sulla torta qua e là nei vari reparti.